Il gruppamento dei Bassotti è con noi Daniele Boltri Bassotto standard a pelo corto Bassotto standard a pelo lungo Standard a pelo duro Nano a pelo corto Nano a pelo lungo Nano a pelo duro Canican a pelo corto Canican a pelo duro Canican a pelo corto Canican a pelo corto Canican a pelo corto Canican a pelo corto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.